Allora, anche per il tumore del rene è cominciata la terza era dell'oncologia. Dopo la chemioterapia, i trattamenti con target biologici, anche per questa neoplasia è cominciata l'era dell'immunoterapia. Che cosa ci piace a noi oncologi, ma soprattutto devo dire ai pazienti? Che finalmente con questa modalità terapeutica possiamo garantire ad alcuni pazienti, per ora ancora ad alcuni, ma penso che sia un grande passo in avanti, la guarigione. Quella che noi chiamiamo tecnicamente lungo sopravvivenza, ma che di fatto per i pazienti che arrivano a più di 5 anni di sopravvivenza, quindi vivi, di fatto guarigione. Questo è il sconvolgente cambiamento che è avvenuto nell'oncologia di questa neoplasia in questi ultimi due anni. Quello che poi di fatto è avvenuto anche nel melanoma, che è stato l'antesignano per questa terapia, è avvenuto già da 10 anni. E infatti nel melanoma abbiamo pazienti che sono vivi metastatici a 10 anni. Credo che noi possiamo gioire di questo che è un aspetto estremamente importante.